Benvenuti a questa nuova edizione del nostro telegiornale, in apertura le vicende legate alla Pernigotti, perché torna sui tavoli ministeriali la avvertenza sulla Pernigotti di Noviligore. Venerdì alle ore 12, rappresentanti della Regione Piemonte, sindaco di Novi Rocchino Muliere, sindacati e rappresentanti della proprietà della fabbrica dolciaria si ritroveranno al Ministero del Lavoro per affrontare il tema della cassa integrazione. Al centro della discussione portare a casa la firma della cassa per ristrutturazione, che oltre a garantire gli stipendi ai lavoratori per due anni, consentirebbe anche alle parti di affrontare la questione della ristrutturazione dell'azienda e di aprire altri scenari come la vendita dell'intera fabbrica e del marchio. Ipotesi, queste ultime per il momento rigettate dai due fratelli turchi Toxos, proprietari della Pernigotti. Intanto c'è attesa per la grande manifestazione di sabato a Noviligore, dove è previsto un corteo per le vie cittadine che partirà alle 15.30 dalla Pernigotti, dove i lavoratori continuano la loro assemblea permanente. E una folla di studenti, stamane sotto Palazzo Rosso d'Alessandria, ha partecipato alla campagna di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne promossa dalla Polizia di Stato. Il progetto, intitolato Questo non è amore, è partito nel 2017. Vi hanno aderito 22 questure e sono state quasi 80.000 le vittime di violenza che si sono rivolte alla Polizia. Da questo mese si è dato avvio ad una nuova fase dell'iniziativa permanente, cui hanno preso parte 83 questure, tra cui quella alessandrina. E stamane a valorizzare la giornata d'impegno è arrivata anche una bella sorpresa. Ma vediamo nel servizio di Alessandro Dallacan. La sensibilizzazione nei confronti dell'opinione pubblica e dell'universo femminile, che affronta un momento difficile perché vittima di violenza, passa anche attraverso la campagna Questo non è amore, promossa dalla Direzione Centrale Anticrimine del Dipartimento della Polizia di Stato. Pure la questura di Alessandria è fra le 83 che hanno aderito ad un progetto di ampio respiro, cui ha detto sì anche Antonella Clerici, l'amata conduttrice televisiva che ha scelto di venire a vivere in provincia di Alessandria. Essere una donna credo che sia un dovere, un dovere di ogni donna a parlare di queste problematiche. Penso che è sempre una responsabilità di noi donne, sia nell'educare i nostri figli al rispetto delle altre donne, in primo luogo, perché questo è davvero la base di tutto. E poi nel farci rispettare, una volta che ci troviamo di fronte a determinate situazioni, a denunciare e a capire che non siamo più sole, che c'è un movimento intorno a questo che può aiutarci davvero a dire la nostra e a uscire, soprattutto nelle dinamiche familiari che sono quelle più difficili da sradicare, trovare la forza di reagire e questo secondo me è molto molto importante. Per Antonella Clerici è la prima volta in uscita come testimonia a livello provinciale, ha sposato una grande causa e ha sposato l'immagine della questura di Alessandria con un progetto altrettanto altisonante. Adesso io sono inserita in questo territorio e quindi mi piace conoscerlo e mi piace fare qualcosa. Io non credo, penso che ognuno debba fare qualcosa nelle realtà dove vive e in questo modo a piccoli passi si può arrivare anche ad avere una rilevanza internazionale, una rilevanza nazionale. Credo molto appunto nei piccoli progetti, nei piccoli passi che poi fanno le grandi cose. Quindi siccome io sto conoscendo questo territorio, mi sembrava giusto, come dire, anche fare qualcosa per questo territorio. Questore Morelli, tra poco Antonella Clerici sarà abbracciata da tantissimi studenti che stanno curiosando ecco tra il vostro mondo e stanno imparando altre tante cose. Noi speriamo che sia un abbraccio totale della città e soprattutto di chi ha bisogno, perché non dimentichiamo il motivo per il quale siamo qui. Noi abbiamo chiesto e ottenuto e quindi siamo grati della presenza di Antonella Clerici che è un personaggio che sa veramente parlare alla gente. Per cui essendo una giornata di sensibilizzazione, noi speriamo proprio di raggiungere questo traguardo, cioè quello di sensibilizzare la gente, soprattutto le donne, anche a contattarci che è il fine ultimo di questa giornata. E grazie anche a voi ovviamente per essere qui. Si chiama Pasquale Tortona e da 36 anni l'uomo che l'altra mattina, prima delle sette avrebbe investito uccidendolo il pensionato Vittorio Barosso, scusate, ex panettiere di 89 anni, residente a Gassino in provincia di Torino. L'uomo era stato notato ormai esanime da alcuni residenti lungo il ciglio della provinciale. Secondo i carabinieri il pensionato sarebbe stato centrato dal furgone condotto da Tortona che dopo l'urto ha continuato la sua corsa senza prestare soccorso. Questa mattina l'automobilista è stato interrogato dal pubblico ministero al quale ha detto che credeva di aver investito un animale. L'uomo adesso deve rispondere di omicidio stradale e omissione di soccorso. Adesso cambiamo argomento. Sono sei nel totale le persone indagate dalla Guardia di Finanza nell'ambito dell'indagine che ha portato al sequestro di alcuni beni del presidente della Sampdoria Massimo Ferrero. Secondo quest'indagine dalle casse della Sampa sarebbe sparita parte della somma incassata per la cessione del giocatore Pedro Biang al West Ham avvenuto nell'estate del 2015. Per il GIP il denaro sarebbe stato distratto per produrre un film con altre due società sempre del presidente attraverso l'utilizzo di fatture false emesse da una società riconducibile a Ferrero anche se amministrata da un altro soggetto e successivamente quindi riutilizzato anche per senare debiti di altre imprese del gruppo. L'elenco dei reati ipotizzati vede appropriazione in debita, truffa, emissione, utilizzo di fatture false e ancora autoriciclaggio e impiego di denaro e beni o utilità di provenienza illecita. Tra le sei persone indagate ci sarebbero anche componenti della famiglia del presidente Massimo Ferrero. L'ordine di sequestro emesso dal GIP del Tribunale di Roma ha riguardato la somma di 2 milioni e 600 mila euro tra beni e disponibilità finanziarie. Il provvedimento toccherebbe anche la squadra della Sampdoria per un importo di circa 200 mila euro e per un immobile di pregio a Firenze. In una nota la squadra della Sampdoria comunica che il club è sicuro della correttezza del proprio operato e si dice fiducioso rispetto al lavoro della magistratura. La società è inoltre precisa che si tratta degli stessi fatti di cui ha il comunicato del 3 luglio 2017. Sono stati i carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Genova a ritrovare dopo 39 anni tre pagine di un codice francese del 1509 scritto da Robert Bollart, rubata nel 1979 dalla biblioteca universitaria di Piazza Carlo Alberto a Torino. L'opera che tratta della vittoria di Ludovico XII sui veneziani, conta di sole due copie al mondo ed ha un valore di milioni di euro. Le indagini sono partite nel 2015 sotto il coordinamento della Procura di Savona che stava indagando su una casa d'aste ligure dove erano stati ritrovati alcuni documenti rubati da un lotto di beni archivistici. E cambiamo adesso argomento con un post pubblicato su Instagram, Naike Rivelli, che ringrazia il personale dell'ospedale di Ovada che ieri ha accolto al pronto soccorso la madre Ornella Muti, pare per una polmonite. La Rivelli ha postato anche una foto che ritrae l'attrice sorridente con una flebo al braccio. Accanto a lei una dottoressa del pronto soccorso. La Muti si è trasferita da tempo all'ERM nelle vaccinanze di Ovada dove partecipa alla vita attiva della comunità. Auguriamo a Ornella Muti di riprendersi al più presto. Sono oltre 360 mila i piemontesi che ad oggi si sono vaccinati in base alle registrazioni dei medici di medicina generale sulla piattaforma online. Ma il numero è destinato ad aumentare in modo consistente nei prossimi giorni non appena tutte le registrazioni saranno inserite sul portale. Quest'anno la campagna antinfluenzale, iniziata il 13 novembre scorso, è caratterizzata da un ingente aumento della domanda. Ad oggi sono infatti state consegnate quasi 600 mila dosi di vaccini e domani se ne aggiungeranno altre 80 mila. Alcune zone del Piemonte hanno registrato ritardi nella distribuzione a causa proprio della forte domanda. A questo proposito, l'azienda produttrice ha diramato una nota nella quale, oltre a scusarsi, ha spiegato che la complessità e la durata del processo produttivo dei vaccini antinfluenzali, anche in termini di sicurezza e controllo di qualità, non sempre consentono di reagire in maniera repentina e importante incrementi produttivi. E la prossima settimana si terrà a Novi Ligore la rassegna enogastronomica Dolci Terre di Novi organizzata dal Comune. Tre giorni dedicate alle produzioni dolciarie e vitivinicole gastronomiche che si terranno da venerdì 7 a domenica 9 dicembre presso il centro fieristico di Viale dei Campionissimi di Novi Ligore. Nel centro fieristico ci saranno 6 itinerari tra i padiglioni espositivi con diverse produzioni agroalimentari, presidi slow food, formaggi, salumi, dolci, vini e ancora pastifici, panifici con la famosa focaccia di Novi, eccetera. L'ingresso è gratuito, sabato 8 ci sarà anche la Notte Bianca con concerto gospel in piazza, ma sentiamo di più nell'intervista al sindaco di Novi Ligore Rocchino Mugliere che ci ha garantito che ci sarà anche uno spazio dedicato alla presenza dei dipendenti della Pernigotti. Vediamo. Si ripete l'appuntamento con Dolci Terre di Novi quest'anno per la ventitresima volta il festival andrà in onda dal 7 al 9 dicembre, festival del gusto vedo qui nel manifesto i percorsi del gusto, sindaco Mugliere. Sì, la ventitraesima edizione vuol dire che è una rassegna che incontra il favore dei consumatori, dei cittadini, dei visitatori che arrivano anche da fuori provincia e questo per noi è molto importante perché vengono a conoscere i prodotti del nostro territorio i prodotti presentati dai vari espositori che sono oltre 100, i presidi dello slow food e i prodotti d'eco del nostro territorio come i ceci della Merella o la focaccia novese. I percorsi del gusto per facilitare la visita dei visitatori al nostro centro fieristico la rassegna Dolci Terre di Novi. Quest'anno ci sono alcune novità oltre a quelle tradizionali che presentiamo ogni anno ci sarà questo cooking show, cioè la presentazione in diretta della preparazione dei piatti da parte di alcuni chef molto noti, ci saranno chef del territorio giovani che presenteranno anche loro i loro piatti, le loro preparazioni a dimostrare della ricchezza del nostro territorio, ci sarà la presenza di uno chef coreano della Corea del Sud che sarà ospite della nostra rassegna, ci sarà la presentazione di libri legati all'enogastronomia e tantissime altre iniziative in quei tre giorni dal 7 al 9 dicembre. Sarà una domenica speciale, quella del 2 dicembre a Villa Delavo a Spinetta Marengo che si prepara ad accogliere i visitatori in occasione dell'iniziativa alla Corte di Napoleone promossa dall'azienda speciale Multiservizi Costruire Insieme. La proposta culturale ha già incuriosito molti turisti, soprattutto dalla città di Torino in 80 infatti hanno già prenotato la partecipazione a questa giornata evento. Sentiamo da Alessandro Dallacan. Non poteva essere scelta la location migliore del Marengo Museum per ospitare domenica 2 dicembre una giornata davvero speciale all'insegna della Corte di Napoleone e della cultura in generale napoleonica legata a questo gioiello della provincia d'Alessandria. Sì, infatti domenica 2 dicembre al Marengo Museum rivive il fasto napoleonico, c'è quel periodo di impero napoleonico che ha segnato non soltanto le grandi battaglie ma anche la storia del costume, della moda, un modo particolare di vedere la cultura e quindi abbiamo il piacere di presentarvi un museo animato di tutte queste cose, di tutte queste suggestioni, atmosfere, danze, musiche, laboratori tematici. Niente scene di guerra ma atmosfera glam e suggestioni che potranno essere immortalate con scatti e selfie napoleonici e con l'opportunità di partecipare a visite guidate ed immergersi nella storia del costume dell'Ottocento. Il Marengo Museum sarà aperto dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. Ecco sindaco, questo è un modo diverso, bello, culturale di far vivere i musei. Lei l'ha detto, le cose stanno così, è un modo per creare una situazione più suggestiva per conoscere e vivere e frequentare i musei. Lo sperimentiamo su Marengo perché è una realtà compiuta, ha già un suo percorso museale, potremo incrementare questo percorso con ulteriori mostre ma su questo stiamo lavorando. Nel frattempo all'interno delle iniziative legate a Natale c'è questa bellissima occasione di vivere la corte di Napoleone. Quindi come è stato detto non un momento legato alla battaglia ma più un momento legato all'ambiente e all'atmosfera del periodo napoleonico. Appuntamento culturale domani a Borgo San Dalmazzo dove alle 18 nella Biblioteca Civica Anna Frank si terrà la premiazione della prima edizione del premio giornalistico e letterario dedicato a Gianfranco Bianco, originario di questo comune del Cuneese. L'evento organizzato dall'Associazione Nome in Cultura è ad ingresso libero. Tra i vincitori c'è anche Biagio Fabrizio Cariglio, scrittore, criminologo e tenente colonnello dell'Arma dei Carabinieri di Alessandria. E anche a Ovada ha accolto con grande entusiasmo l'artista nuovese Claudio Lauretta, teatro splendor, sold out per il suo spettacolo Imitamorfosi si chiama. L'ha seguito per noi Fabrizio Mattana. Vediamolo. Non puro trasformismo, non semplici imitazioni. L'arte di Claudio Lauretta ricorda un po' quella delle celebre aliglie unoschese. Si può definire la sua un'arte della metamorfosi, o meglio dell'imitamorfosi, che è il titolo poi dello spettacolo che l'artista novese sta portando con successo in turnie. Dopo aver riempito piazze e teatri durante la scorsa estate, anche nella serata a Ovada adattendolo è stato un teatro splendor, sold out. Lauretta ha come sempre coinvolto e divertito il grande pubblico, accompagnandolo in un percorso che voleva analizzare l'attualità partendo dal mondo della televisione, dal punto di vista dei tanti personaggi da lui interpretati, dal presidente degli Stati Uniti Trump, a Matteo Renzi, da Beppe Grillo a Vittorio Sgarbi, fino ai miti della musica come Vasco Rossi, Zucchero e Renato Zero. Uno spettacolo altamente comico, dove le parole si sono alternate con la musica, grazie al contributo del chitarrista Sandro Piccolo, sua preziosa spalla comica dal 2002. L'imitamorfosi di Lauretta non è poi limitata a questo one-on-man show, ma si amalgama molto bene con i tanti impegni dell'artista nel campo dello spettacolo a 360 gradi, radio, televisione, fiction, insomma si sta rivelando sempre più un personaggio completo. Lo è davvero chi riesce da solo, anche se in realtà in compagnia dei suoi personaggi, a catalizzare la tensione costante, per due ore, di un pubblico sempre variegato. Lauretta sa accontentare proprio tutti. E adesso parliamo un po' di sport, la Juventus dopo la vittoria per 1-0 contro il Valencia, accede agli ottavi di finale della Champions League. La meritata vittoria è giunta grazie ad un gol di Mandzukic su assist di Ronaldo. Nella pagina sportiva invece curata da Fabrizio Mattana parleremo di calcio femminile. Sono state presentate ufficialmente le squadre appartenenti all'Alessandria Calcio. Poi come sempre subito dopo ci saranno le previsioni del tempo e ancora le notizie utili. Grazie per l'attenzione e arrivederci alle prossime edizioni.